Attenzione, l'obiettivo è stato preso. Unetiva a noi, un vaffanculo a loro. Passo. Attenzione, l'obiettivo è andato. Passo. Attenzione, l'obiettivo è andato. Attenzione, l'obiettivo è andato. Ecco il kit medico. Cazzo, il nemico controlla tutti gli obiettivi. Dobbiamo darci una cassa di bossa. Abbiamo neutralizzato l'obiettivo. Ripeto, l'obiettivo è stato neutralizzato. Passo. Attenzione, l'obiettivo è andato. L'obiettivo è andato. Vieni! 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 Forza, prendilo! Raccogli il kit medico! Attenzione! Abbiamo neutralizzato l'obiettivo! Passo! Attenzione a tutte le unità! Abbiamo preso l'obiettivo! Abbiamo preso l'obiettivo! Passo! Attenzione! Abbiamo preso tutti gli obiettivi! Avanti così! Passo! Avanti così! Tira i brigand! Attenzione! Obiettivo è stato neutralizzato! Passo! Obiettivo al sicuro! Passo! Aspetta! Aspetta! All'arco! 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 Attenzione! Abbiamo preso l'obiettivo! Passo! L'obiettivo è stato preso! Passo! Passo! Molto! Non ci arriverai! All'arco! 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 Attenzione, l'obiettivo è neutralizzato. Passo. Non si lancerò a morire! Abbiamo preso l'obiettivo. Passo. Abbiamo preso l'obiettivo è neutralizzato. Attenzione, passo. Forza, ottimo lavoro, ottimo lavoro. Forza, dobbiamo continuare. Avanti così. Sì, un cecchino nemico, passo. Oh, cazzo, mi ando bloccato, sì! Attenzione, passo con me! Sì, un po' di più. Attenzione, l'obiettivo è andato! Attenzione, l'obiettivo è stato preso. Passo. Attenzione, presidiamo gli obiettivi. Passo. We'll keep medical. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!